ciao a te che fai insieme a me e che hai deciso di fare con me libera l'anima e vola con lei è un po tardi sono le 23 45 e niente il mio telefono mi sta lasciando quindi registro dal computer e anche se è tardi ho letto questa frase mi ho detto no devo mi sento di fare mi sento di fare un video su questa frase e quindi inizia a picchiettarti poi la frase te la dico dopo intanto te ne leggo una di una di orco che dice non gettare non gettare sugli altri la tua responsabilità è questo che ti mantiene infelice assumiti la piena responsabilità ricorda sempre io sono responsabile della mia vita nessun altro è responsabile pertanto se sono infelice devo scrutare nella mia consapevolezza qualcosa in me non va creo infelicità tutto intorno a me e questo è una è la frase frase di osha ma io sono rimasto sconvolto in maniera positiva però dalla frase che ho letto di byron che che dice ascoltala bene e ci facciamo un giro di effetti su questa frase che è potentissima se penso che tu sei il mio problema sono pazza te la ripeto perché ti deve entrare è un controsenso ma è giusto è fantastica la cosa deve lavorare dentro di noi se penso che tu sei il mio problema sono pazza questo cosa significa significa semplicemente che abbiamo questa abitudine di dare la nostra felicità le nostre responsabilità il nostro senso di responsabilità della nostra vita di tutto all'esterno delle volte ad una persona delle volte ad una istituzione no se sei baron che stava impazzendo a un certo punto è svenuta perché il suo cervello ha fatto come un reset altrimenti sarebbe morta e si è svegliata e e da quel giorno è stata considerata come appunto una risvegliata e un illuminata dei giorni nostri e ascoltare baron che io ho fatto i suoi lavori energetici ho visto due due dvd ho letto tre dei suoi tre libri ne ha fatti tanti è qualcosa incredibile quindi se penso che tu sei il mio problema sono pazza picchiettiamoci su questa frase se penso che tu sei il mio problema sono pazza togliendo la responsabilità che abbiamo noi al cento per cento della nostra vita qualsiasi cosa ci capita è per noi è dentro di noi dal giudizio a tutte le altre cose dobbiamo iniziare a vivere e a vedere le cose sotto questo aspetto quindi se penso che tu sei il mio problema sono pazza ascolta dove va questa frase dentro di te se penso che sono io scusa se penso che tu sei il mio problema sono pazza se penso che tu sei il mio problema sono pazza se penso che tu sei il mio problema sono pazza o pazzo se penso che tu sei il mio problema sono pazza Se penso che tu sei il mio problema, sono pazza. Mi respiro un attimo qua, se penso, con il microfono spero che non dia fastidio, se penso che tu sei il mio problema, sono pazza. Sotto la scella, se penso che tu sei il mio problema, sono pazza. Sono della mano e ascoltati veramente, ascoltati veramente cosa genera in te questa frase. A me ha riaperto un mondo, anche se sono un fan di Byron Kate, questa frase non me la ricordavo. Se penso che tu sei il mio problema, sono pazza. Se penso che tu sei il mio problema, sono pazza. Grazie vita per questa nuova consapevolezza, che se penso che tu sei il mio problema, sono pazza. Prenditi sempre un attimo di riflessione, con le mani sul cuore e ascolta. Ascolta quale emozioni girano. Ti è venuta una rapida, non so, qualsiasi emozione ti è venuta, ripicchiettala. No, ma non ci credo. Cosa non credi? Non credi a me? Non credi a Byron Kate? Non credi a che cosa non credi? Ascoltati, sono credenze di chi? Chi ti ha messo queste credenze? Ascolta cosa viene fuori e picchiettati e fai altri giri, altri giri. E poi va bene, dai, ti lascio così questa sera e poi ne riparliamo alla nostra prossima sessione. Amore e ingratitudine a te, che hai voluto iniziare a fare questo percorso con me e che hai voluto ascoltare e vedere questo video. Grazie mille. Grazie mille.